Museo Carsico, Geologico e Palleontologico, Odivi, Viale San Marco 9, Monfalcone, Italia. Conoscere i trilobiti, videodidattico rivolto alle scuole di primo grado. I trilobiti, sono resti fossili di antichi animali appartenenti agli artropodi, vissuti nel paleozoico. Regno, animale, filum, artopoda, subfilum, trilobitomorfi, sottotipo di artropodi ormai estinto. La loro definitiva estinzione risale al Permiano, circa 250 milioni di anni fa. Le prime tracce fossili dei primi trilobiti risalgono al Cambriano, circa 570 milioni di anni fa. Descrizione Il nome, trilobiti, deriva dalla suddivisione del loro corpo in trilobi longitudinali. Un lobo centrale leggermente rilevato, detto assiale, affiancato da due lobi laterali, detti pleurali. Parti di un trilobita, cefalo, la parte anteriore, torace, la sezione centrale, pigidio, o coda, la parte posteriore, cefalo, torace, pigidio. Dimensione variabile da 0,3 a 72 cm. Il loro habitat era rappresentato dai fondali oceanici e si cibavano di detriti. Erano ricoperti da una robusta cuticola chitinosa, e composti da molti segmenti. Ogni segmento del torace e del pigidio, era dotato di una coppia di zampe. Erano quasi tutti dotati di occhi composti, e spesso pronunciati, in condizioni di pericolo si arrotolavano, così come oggi fanno alcuni crostacei. Così come per le altre parti del corpo del trilobita, anche per gli occhi ci sono grandi variazioni del formato e della grandezza. Tale variazione forse dipende dallo stile di vita ecologico delle differenti specie. Gli occhi erano principalmente di tre tipologie. Occhi piccoli formati da numerose e piccole lenti unite tra loro. Occhi grandi formati da poche e grandi lenti distanti tra loro. Occhi piccoli formati da poche lenti distanti tra loro. In alcuni trilobiti pelagici, gli occhi erano enormi, e permettevano un campo visivo a 360 gradi. I trilobiti che vivevano nelle acque più profonde erano ciechi, o con occhi molto ridotti. Quelli che vivevano tra le alghe, o nello strato bentonico, presentavano occhi periscopici. Sviluppo ed accrescimento I trilobiti, come tutti gli artropodi, erano soggetti a mute periodiche, cioè cambiavano l'esoscheletro ad intervalli. Questo processo avveniva grazie alla presenza di una grande sutura facciale da cui l'animale poteva sgusciare fuori. I trilobiti più grandi Ricostruzione degli antichi ambienti del Paleozoico Cambriano Dai 542 ai 488 milioni di anni fa Ordoviciano Dai 488 ai 444 milioni di anni fa Siluriano Dai 444 ai 416 milioni di anni fa Devognano Dai 416 ai 359 milioni di anni fa Carbonifero Dai 359 ai 299 milioni di anni fa Permiano Dai 299 ai 251 milioni di anni fa La grande estinzione del Permiano La fine del periodo Permiano fu caratterizzata da una grande attività vulcanica, i asteroidi si abbatterono sulla Terra, causando la morte del 95% delle forme di vita marine, e il 70% delle forme di vita terrestre. Ecologia Erano diffusi in tutto l'ambiente marino, e si adattarono alle diverse profondità e da tutti i modi di vita. La presenza di occhi peduncolati suggerisce che alcuni di essi conducevano vita semi-infossata, mentre l'assoluta mancanza degli occhi o la riduzione degli stessi, rivela l'adattamento a una vita infossata. I trilobiti, nel Cambriano si nutrivano di materiali organici presenti sul fondo marino, e lasciavano delle impronte ben precise che vengono chiamate cruziana. Anche queste impronte sono state ritrovate come resti fossili nelle rocce del Cambriano e dell'Ordoviciano. Attualmente i trilobiti, sono stati raggruppati in 9 ordini e 150 famiglie, nelle quali sono stati riconosciuti circa 5.000 generi, ed oltre 15.000 specie. Nel Cambriano erano presenti circa 6.000 specie. Dopo l'Ordoviciano, e il Siluriano, i trilobiti diedero il via a molti modi nuovi di vivere. Alcuni divennero animali scavatori ciechi, altri svilupparono occhi enormi e protuberanze ad acullio. Altri ancora come gli Ampix avevano protuberanze allungate provenienti dagli angoli dello scudo cefalico, e dirette in avanti. In epoca carbonifera, le famiglie dei trilobiti, si erano ridotte ad una sola, e alla fine del Paleozoico, 250 milioni di anni fa, tutte le specie si erano ormai estinte, sostituite da altri artropodi, come i granchi, i gamberi e simili. Ordine agnostida, trilobiti di piccolissime dimensioni, fino a 1,5 cm, con cefalo e pigidio più o meno delle stesse dimensioni, non presentano occhi, distribuzione stratigrafica, Cambriano inferiore e Ordoviciano superiore, da 542 a 444 milioni di anni fa. Ordine reliquida, distribuzione stratigrafica, Cambriano inferiore e medio da 542 a 500 milioni di anni fa. Ordine corinexochida, distribuzione stratigrafica, Cambriano da 542 a 488 milioni di anni fa. Ordine liquida, distribuzione stratigrafica, Ordoviciano, Devoniano, da 488 a 359 milioni di anni fa. Ordine facopida, distribuzione stratigrafica, Ordoviciano, Devoniano, da 488 a 359 milioni di anni fa. Ordine pretida, distribuzione stratigrafica, Cambriano superiore, Permiano, da 495 a 251 milioni di anni fa. Ordine asafida, distribuzione stratigrafica, Cambriano medio, Ordoviciano, da 500 a 444 milioni di anni fa. Ordine arpetida, distribuzione stratigrafica, Cambriano medio, Devoniano, da 500 a 359 milioni di anni fa. Ordine, pticoparida, distribuzione stratigrafica, Cambriano, Permiano medio, da 542 a 265 milioni di anni fa. Località famose nel mondo Burgess, Canada Località, Parco nazionale di Yoh, Montagne rocciose canadesi, Colombia britannica del sud, Canada Età, Cambriano centrale, circa 505 milioni di anni fa. Kengiang, Cina Località Maotiansan ed altre località vicino a Kengiang, provincia orientale di Yunnan, Cina del sud. Età, Cambriano iniziale, circa 542 milioni di anni fa. Utah, Stati Uniti Località, Montagne dello Utah occidentale. Stati Uniti Età, Cambriano, circa 505 milioni di anni. Unzrich, Germania Località a Valli del Reno, Massiccio Renisch Germania occidentale Età, Devoniano inferiore, circa 416, 410 milioni di anni fa. Jess, Germania Località vicino Gerolstein, regione di Eiffel, Valli del Reno, Massiccio Renisch Età, Devoniano centrale, circa 398, 392 milioni di anni fa. Rockester, New York Località, Cava del Caleb, Middleport, New York, Stati Uniti Età, Silurian inferiore, circa 444 milioni di anni fa. Ince, Repubblica cieca Località, Litaca River Valley, Bohemia centrale, Repubblica cieca Età, Cambriano centrale, 505, 510 milioni di anni fa. Oklahoma, Stati Uniti Località, vicino a Clarita, Contea del Carbone, Oklahoma centrale Età, Devoniano iniziale, circa 415 milioni di anni fa. Baia di Emu, Australia Località, Isola del Canguro Baia di Emu e Cap de Stain Australia del Sud Età, Cambriano centrale, circa 525 milioni di anni fa. Fiume Vokov, Russia Località, regione di San Petersburg Vokov River Età, Ordoviciano medio, 460 milioni di anni. Alnif Marocco Località, Alnif Regione delle montagne dell'Atlante Età, Devoniano 405 ai 345 milioni di anni fa. Trilobiti in Italia Gli affioramenti fossili a trilobiti In Italia sono molto rari Si rinvengono nei terreni del Permiano siciliano del Sosio, nel Paleozoico delle Alpi Carniche nelle località di Valluqua, Ordoviciano, Monte Cocco, Siluriano, Passo Volaia, Devoniano, Passo Pramollo, Permo Carbonifero. Sempre rari, ma meno, in Sardegna, soprattutto coi generi Dolerolemus, Psicoparia e Paradoxides nel Cambriano e Siluriano dell'Iglesiente. Valluqua, Ugovizza, Udine Località, Valluqua a nord di Ugovizza, Udine Età, Ordoviciano superiore, circa 450 milioni di anni fa Monte Cocco, Ugovizza, Udine Località, nei pressi delle miniere abbandonate del Monte Cocco, Valle di Ugovizza, Udine Età, Siluriano 425-405 milioni di anni fa Passo Volaia, Udine Località, Monte Coglianz, Età, Devoniano, circa 405-345 milioni di anni fa Passo Pramollo, Udine Località, Passo Pramollo, Pontebba, Udine Età, Permo Carbonifero, circa 280 milioni di anni fa Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione